Un'altra cosa è la casa, io sono molto cauto prima di comprarmi la casa perché io ho solo che storia di terrore sulla casa cioè prima casa, perché tu cominci a avere un paio di milioni via e ti compri la villa da un milione e mezzo, ma è sbilanciato Scuola per ricchi è la più rivoluzionaria accademia interattiva per diventare ricco alla quale tu possa mai accedere Che tu parta da zero o che tu abbia già un'attività avviata non importa Ti prendiamo per mano e ti guidiamo per farti ottenere i risultati monetari che desideri mettendoti a disposizione tutor, coach ufficiali specializzati masterclass live e molto altro e inoltre puoi guadagnare passivamente promuovendo Scuola per ricchi grazie all'operazione Mangusta Tutto questo è Scuola per ricchi la conoscenza che manca tra scuola e ricchezza Ecco quando secondo te, ad esempio io ho una casa mia, di proprietà l'ho presa qualche anno fa in Italia e in un fondo patrimoniale mio e di mia moglie ovviamente prima che ci sposassimo e tutto e cioè quando poi ci siamo sposati ma ovviamente il rispetto al mio patrimonio è piccolo, molto piccolo ed è quello che mi serve quando andiamo l'estate in vacanza non è messa a reddito ancora no la gente continua a dirmi dovresti metterla a fitti brevi al BNB questa ti rende 7000 euro al mese che non mi fanno schifo perché non ci fanno schifo però ci sono altre dinamiche sai anche quando sei sposato no, dobbiamo fare un altro trasferimento no, lasciamoli fermi e tu dici cazzo ma sono 80k l'anno in più senza fare niente perché in quel caso sarebbe c'è la scena, c'era il meme il leone da single di lui dietro la leonessa da sposato il leone in un angolo poi la leonessa che rugì esatto, esatto, esatto ecco cioè sulla prima casa io stesso sono sempre stato convinto cioè comprarti casa per andarci a vivere è sbagliato in realtà io stesso non ci vivo a parte l'estate però neanche l'ho messa a reddito perché non è in questo caso la mia priorità o altre cose a cui pensare al momento e diciamo che per ora è il poggiarobe che abbiamo in Italia sì, pietate che è a base capito, cioè dove devo metterle le altre cose per ora ce l'ho là a posto però dal tuo punto di vista è sbagliato quando è giusto e quando è sbagliato allora non è sbagliato comprarsi casa innanzitutto vabbè una grande discriminante che le persone devono capire è avere i soldi e non avere i soldi la prima, come sempre quando tu hai tanti soldi le cose cominciano a ragionare in percentuale infinitesimale perciò a un certo punto tutti noi sentiamo il bisogno di non stare in affitto e comprarci una casa ehi, mi raccomando iscriviti al canale per attingere a tutte le informazioni più aggiornate ed efficaci su marketing, business e profitto e può andare bene capendo le implicazioni di questa cosa e il problema che io noto è questo una persona inizia a guadagnare mettiamo che tu inizi a fare 100k al mese ok, di profitto che ricordiamoci non fanno tutti parliamo di personale esatto e non è appannaggio di tutti ok, anzi sei d'accordo con questo? quindi, ragazzi sono cifre importanti si possono fare e si fanno non manchiamo di rispetto a certe cifre soprattutto farle in modo costante quindi un mio dividendo di 100.000 euro al mese benissimo, io inizio e questo è molto comune nei business online dove tu non capisci, non capisci e poi è molto comune l'esplosione cioè io l'ho vista succedere immagino anche tu spesso non è normativo però succede bam, a un certo punto cazzo, il funnel va all'inizio è facile basta che imbrocchi il traffico costa poco gli vendi l'offerta e dice porca miseria un certo punto il momento in cui sembra che cagli veramente 124.000 euro ma cosa abbiamo fatto che ti sembra veramente di rubare con la sindrome dell'impostore che dice I'm getting away with something non mi vedo sei veramente spaventato quindi allora alzi il tenore di vita se non sei focalizzato innanzitutto sul risparmio non hai risparmio forzoso non hai il sistema cioè hai conti aperti e devi per forza forzare ma li lasci nell'entropia praticamente non metti via niente alzare lo stile di vita è un attimo ti parlavo prima di quello che io ho speso negli ultimi due anni che c'è da vergognarsi perciò non ripeto la cifra non facendo niente perché fossi uno che posta Lamborghini e tutto il giorno infatti non hai neanche la macchina io non ho la macchina non ho neanche la bicicletta non l'ho mai avuta e non ho neanche la bicicletta non lo fermo la ti giro a piedi sei proprio allora un po' di soldi via cosa succede? tu hai lo stile di vita magari da 30, 40, 50k al mese ma non hai avuto il tempo di metterti via un patrimonio che giustifichi lo stile di vita ok? quindi magari tu ti trovi centinaia di migliaia via in realtà io ho notato uno stallo al milione e due persone stallano al milione e due ok? molto pochi cioè che si fermano al milione e due milione e due non chiedermi perché milione e due ok? se no perché avevano visto il tuo video ah sì del milione e due sul conto del broker ma un milione e due sono a posto che poi finto ovviamente quel video lì era una demo si cambiano i numeri con il CSS cos'è che si fa con l'inspection assolutamente tutta leva o cose del genere vabbè a parte questo e quindi un milione e due e il problema è che un milione e due 40k al mese o 30k al mese non è bilanciato e la dietrologia patrimoniale ti arriva quando tu dici ok quanto ci mette il patrimonio a darmi quello che io spendo e lì ti viene l'ansia e poi comincia a fare degli acquisti che sono commisurati a quello stile di vita quindi mi compro una casa che casa mi compro? perché se tu hai un milione e due via guadagni 100k al mese e ti compri 200k di casa ma compratela ma va bene guarda che è uno dei primi di vivere a Dubai perché a Dubai non puoi fare questo ragionamento ma se tu sei in Europa noi vivessimo le case se sei in un paese non parlo di metropoli e così con 150 mila euro ti compri una signora casa 200k allora compra ti arredi ma certo ma va bene ma se hai un tenore di vita oppure sei a Dubai quanto costa una casa a Dubai da Dubai milione milione e mezzo e allora e perché a Dubai fai fatica a cedere ai monti ma se no io dico sempre tutti i vari quelli che le persone chiamano molte volte a torto guru fossero in America avrebbero la penthouse da 20 milioni 100% a debito ma ti comincia a rovinare perché a un certo punto tu guadagni per pagare il debito ma tu lavori per pagare i debiti che ti costano e non hai patrimonio quindi quando prendere una casa innanzitutto quando hai capito quello che ho appena detto e anche di più quando capisci le implicazioni quando capisci che la vita ti può portare da tante direzioni dovresti prenderla quando tu sei sicuro di tornare in quel posto o di viverci per abbastanza a lungo ok per pagare